dobbiamo scattare le foto ai cani e bisogna scattare le foto ai cani e man mano che si avanza si sblocca sempre più cani e nuovi filtri fotografici non c'è l'italiano perde molto perché qui la storia è importante abbassare un volo ai start questo vai tu a seno paparazzo diciamo saltiamo la loro della storia a in prima persona attenzione beh fatto molto bene questo cane scatta scatta si scatta e le due mesi reti a sta incazzando e cattami la foto aspetta abbiamo ecco fai scattato si è preso un posto è un po storto apriamo il nostro giornale per vedere gli obiettivi dai ma si possa questa cosa a ecco dogs.net vai dobbiamo aggiungere cinque follower e mancano quattro ai loro dire fa esattamente quello che mi aspettavo dove sta però il mondo è un po spoglio sembra un po una un puma pantera però è venuto con gli occhi chiusi ah mannaggia dai sei venuto bene i cani saltano il dalma d'acqua che sono un po inquietanti e camminano così non lo so però non sono questi i nostri obiettivi questi perché guarda quello è tipo dio che salta nell'acqua ahahah quello è il cane di gesù ah ahahah no cammina proprio è lui il nostro obiettivo questo è quello più serio questo è l'unico che si comporta da cane va bene non fughiamo no penso che sei mortale fatti fare la foto pure questo è depresso ma sono tutti un po' depressi ma non è che sono tipo cani morti come si scatta ancora che già che hai fatto? eh non so si è triggerato il cane diciamo se questo è un gioco un po' particolare vabbè però io mi aspettavo di spenderci la mia mamma in zona su questo gioco ma anche questo è scritto sotto pupperazzi 13 dicembre 2021 scusa sta indietro di un bel po' non sanno camminare forse non sono stato in grado di fare il movimento delle zampe e ha detto facciamo i saltellari si sembrano contenti si si ma mi sai non è più la pellicola no abbiamo più la pellicola di andare a comprare guarda questo si sta spazio oh si è fregato questo dammelo piglialo piglialo ma perché salti pure tu? fa una malattia ma ce l'abbiamo ah abbiamo abbiamo tre follower dobbiamo arrivare a cinque certo però ah un cane è simpatico avevo solo nove scatti il cane di Gesù è simpatico no secondo me con quel bastoncino era simpatico aspetta metterevi bene in bosa il cane con i suoi amici ecco è venuta perfetta questa di vai no di oh stanno ingrazzando basta troppo spa stiamo spammando eh no no basta basta spammiamo cani questo è un cane bello no basta domani e abbiamo ah tutte le razze stiamola fotografando bene ho visto come sono imposturati non è molto istruttivo ma questo era il pitbull quello era il pitbull non sembrava proprio brava vabbè un pitbull a modo suo sono abbastanza deluso comunque che secondo me perché dobbiamo capire ancora bene tu non stai capendo perciò ma non voglio capire ho capito pure fin dopo no non hai capito niente no e non è il gioco che hanno sfamato nei trailer cioè quando ne sono rimasti delusi quelli aspettano tutti sto gioco come sarà bella il pitbull il pitbull mi piace particolarmente tu ti vuoi più lontra che il pitbull però vabbè professionale vai questa è che ti è piaciuta dai yaski yaski non li abbiamo fotografati vai guarda bene eh ma è troppo brutto queste foto vabbè no queste artistiche sono foto particolari si può carezzare no facciamo delle braccia lunghissime che tante sembra tipo quella maestra di little nightmare 2 mi sa che quelle possiamo lanciare allora muo il bastoncino vedi tu mi avevo tasto infame no dammelo vai lancia lo voglio sto cosa eh oh l'ho preso vai lancia via puoi pensare come prova può andare bene sì sì in realtà perché c'è tanto da fare sicuramente però vabbè ve l'ho detto secondo me carino non è proprio male no vabbè però sei di me diciamo sì è difficile che tu dici oh voglio giocare a 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 Grazie per la visione!